Allora, oggi siamo qui davanti alla Prefettura a fare un presidio contro il piano casa varato dal Ministro Lupi. È una stretta sul diritto all'abitare. Stanno sgombrando tre palazzi a Roma, ieri è stato fatto questo, dove c'erano occupazioni di famiglie, famiglie con disagio abitativo. Allora, con questo piano casa in effetti si lega la residenza a chi fa le occupazioni e l'attacco dell'Enel. Questo vuol dire che diventa invivibile un'occupazione, non si può fare più. Questa legge non è solo contro gli italiani, ma è anche fortemente razzista, perché l'85% degli occupanti da Roma in su sono immigrati o richiedenti asilo politico. Ciò vuol dire che non dandogli la residenza gli neghiamo il permesso di soggiorno e dunque devono andare via. Noi protestiamo contro tutto questo, vogliamo un vero piano casa, un piano casa che sia per gli italiani e per gli immigrati e che ci diano dei canoni sociali, perché è impossibile avere questi fitti più alti di quelli che sono i nostri stipendi.